In questa ricetta utilizzo questo mix per pane nero Certo che pisto così, aspetta Questo mix per pane nero Ma puoi utilizzare qualsiasi altro tipo di farina Hai presente quando hai delle piadine, dei crostini? Vuoi preparare un aperitivo così, degli sussidini? E non sai cosa fare? Oggi prepariamo mini piadine ai 7 cereali Con tonno e fagioli Della serie, non ho niente Ma in dispensa il tonno e i fagioli Più o meno ce li abbiamo tutti Buono, buonissimo iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.